Buongiorno, grazie a Save the Children per l'invito e un saluto alle autorità e a tutti voi che siete presenti. Questi due anni di pandemia hanno richiesto a tutti noi grandi sacrifici. Le hanno richiesti soprattutto ai più giovani, agli adolescenti, ai bambini. Sono loro ad aver sofferto maggiormente le misure di distanziamento sociale e la chiusura delle scuole e degli asili nido, in un periodo della vita in cui la socialità e la formazione sono fondamentali per lo sviluppo della persona. La pandemia ha anche evidenziato e acuito alcune delle diseguaglianze già presenti nel nostro Paese. Penso ad esempio alla didattica a distanza, che rischia di lasciare indietro chi non ha accesso a computer o tablet per tutta la famiglia, chi non ha connessioni Internet veloci, chi non ha spazi domestici adeguati. In questo contesto è importante che l'Europa abbia deciso di titolare il più grande provvedimento di risposta al Covid Next Generation EU, mettendo a disposizione una grande quantità di risorse senza precedenti per adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Come sapete, ciascun governo ha elaborato in maniera autonoma un Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, il PNRR, all'interno di una cornice comune a livello europeo, incentrata su digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. L'offerta di servizi di educazione primaria in Italia soffre di forti carenze strutturali e è stata oggetto anche di una raccomandazione europea. La raccomandazione chiede di garantire l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e di investire nel miglioramento dei risultati scolastici e nel rafforzamento delle competenze, in particolare delle competenze digitali. Ora il PNRR italiano prevede una serie di interventi e di investimenti importanti che rispondono a questa raccomandazione. Tra le misure più significative segnalerei quelle per l'ampliamento dell'offerta di asilinido, per il rafforzamento delle competenze quantitative, tecnologiche e linguistiche nelle scuole, per il potenziamento delle infrastrutture scolastiche, incluse quelle digitali, per l'estensione del tempo pieno e per la riduzione dell'abbandono scolastico. È Next Generation EU un'occasione unica quindi per l'Italia di colmare i divari rispetto ad altri paesi europei, di vari certificati ad esempio dei risultati delle indagini Ox e Pisa sulle competenze o dai dati sulla disponibilità di posti negli asilinido, che vede l'Italia 10 punti sotto la media europea. Al tempo stesso i dati evidenziano anche forti divari territoriali dentro il nostro paese e quindi il PNRR deve anche essere un'occasione per superare le diseguaglianze territoriali in tema di educazione e non solo. Infine, una nuova stagione di politiche per i giovani e per l'infanzia è fondamentale per invertire il declino di natalità. Una questione europea che tuttavia in Italia è ancora più pronunciata. Il numero di nuovi nati nel 2021 è stato il più basso mai registrato dall'Unità d'Italia. Solo 399.000 bambini, 5.000 in meno del precedente record negativo del 2020. I ragazzi e i bambini rappresentano il 16% della popolazione italiana, ma il 100% del nostro futuro. Una società che invecchia è meno dinamica, meno innovativa e in ultima analisi meno capace di affrontare le sfide di domani. Next Generation EU offre invece la possibilità di invertire questa tendenza, di imprimere una svolta alla traiettoria economica e demografica del Paese e di lasciare alle prossime generazioni la speranza di un futuro migliore. Vi ringrazio.